Mister, dopo una prestazione simile, perdere così lascia tanta amarezza. Sì, lascia amarezza perché abbiamo giocato alla pari, a tratti anche meglio del Pisa. Abbiamo creato occasioni e opportunità, abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta, solida. Purtroppo perdi queste partite perché concedi qualche leggerezza che gli altri non perdonano. Noi abbiamo avuto delle buonissime occasioni, delle buonissime opportunità. Potevamo essere un po' più precisi nella conclusione, nell'ultimo passaggio. Perché oggi veramente tante volte siamo arrivati vicini al gol e comunque in area avversaria. Torniamo a casa con una sconfitta su un gol o comunque su occasioni e opportunità create dal Pisa su due palle native. E di una di queste siamo stati puniti. Si volta subito pagina a martedì c'è il lecco. Sì, ripeto, è quello che ho detto anche alla squadra. Non dobbiamo pensare che c'è sempre una partita dopo. Bisogna cercare di dare tutto dal punto di vista fisico, lo danno. Dal punto di vista tecnico lo danno. Bisogna darlo anche dal punto di vista della malizia. E in questo dobbiamo sicuramente crescere perché stiamo perdendo delle partite o stiamo prendendo dei gol un po' troppo banali. E concediamo qualcosa di troppo su errori veramente banali. Da questo punto di vista dobbiamo crescere. Però segnali positivi la squadra li sta dando. Di giocatori che stanno trovando la migliore condizione. Di una squadra che in campo sta bene. L'ha dimostrato anche oggi. E' proprio per questo motivo che c'è questa amarezza.